Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra parte seconda. Dal 1929 gli Stati Uniti entrano in un periodo di grave crisi economica, passato alla storia con il nome di Grande Depressione. Infatti l'aumento dei prodotti invenduti e la crisi finanziaria di Wall Street avevano provocato una crisi economica senza precedenti, che portò alla chiusura di molte fabbriche, al fallimento di molte banche e alla cessazione di molte aziende agricole, con conseguente disoccupazione e povertà per milioni di persone. Le immagini che qui vediamo ci documentano una situazione veramente drammatica sia nelle campagne sia che nelle città, dove molti americani, piccoli e grandi, si devono mettere in fila nella speranza di ricevere un pasto, un aiuto, dalle associazioni caritatevoli private che si diffondono in questo periodo. Qui vediamo anche in basso un'immagine in cui due persone con un cartello chiedono disperatamente lavoro e non carità, perché sono fra i tantissimi disoccupati dell'epoca. Per molto tempo i vari presidenti americani e repubblicani che si sono succeduti non fecero praticamente nulla per arginare questa condizione di povertà, fino a quando a reagire fu il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, che proveniva da una agiata famiglia, era convinta che lo Stato americano dovesse abbandonare l'idea di essere semplicemente un controllore della situazione e di intervenire invece sull'economia proprio nel momento di crisi, con l'intento di far rispettare delle leggi, ma anche proteggere i più deboli e sostenere la politica economica. Quando infatti accettò la candidatura come democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Roosevelt affermò «Ovunque nella nazione, uomini e donne, dimenticati dalla filosofia politica del nostro governo, ci guardano in attesa di guida e di opportunità per ricevere una più equa distribuzione della ricchezza nazionale». Io mi impegno a sancire un nuovo patto con il popolo americano. Questa è più di una campagna elettorale, è una chiamata alle armi, e fu in effetti una campagna elettorale fortunata. Nel 1932 Roosevelt era primo presidente democratico dopo molto tempo negli Stati Uniti. Egli promosso una nuova politica appunto, chiamata New Deal, nuovo corso o nuovo patto, che in realtà non è un programma preciso, organizzato, ma che si è svolto in una serie di azioni susseguenti in diversi anni, dal 1932 praticamente fino alla Seconda Guerra Mondiale, e che produsse il concetto di welfare state ad esempio, cioè quello di uno Stato che agisce per il benessere dei concittadini. Quindi, per esempio, Roosevelt si occupò di garantire diritti e qualità di vita dei lavoratori. Prevedette per legge l'aumento dei salari, ma anche il salario minimo garantito. Inoltre, chiese e ottenne la riduzione dell'orario di lavoro e la creazione di una solida sistema di pensione e di assegni per malattia. Inoltre, promulgò assegni per le famiglie più povere e contributi ai disoccupati, che portessero a fornire dignità ai lavoratori. In campo macroeconomico, cioè quello legato all'economia del paese, Roosevelt fu molto attento a mettere sotto il controllo della Banca federale le banche private e in modo da stabilire con decreti e con leggi quali erano i limiti delle loro azioni. Inoltre, stabilì i prezzi dei prodotti agricoli per sostenere i contadini e rimettere in moto l'economia rurale. Impose però anche dei prezzi per i generi di consumo più importanti, in modo da garantire un tenore di vita dignitoso. Inoltre, fece una riforma che gli procurò anche molti problemi con la parte più ricca della popolazione americana, cioè il concetto della tassazione progressiva. In pratica, chi più ha più paga. Questo sistema di tassazione, che è previsto anche in Italia, addirittura dalla Costituzione italiana, gli permise di recuperare risorse ed è stato in parte abbandonato negli Stati Uniti dagli anni Ottanta. Lo Stato quindi che divenne un vero e proprio imprenditore. Infatti, non solo prestò denaro alle imprese per aiutarle a superare i momenti più difficili, ma divenne appunto un imprenditore creando delle imprese di opere pubbliche. Furono cioè create strade, scuole, ospedali, ferrovie, ricordiamo la grande impresa delle dighe monumentali della valle del Tennessee, pagate dallo Stato. La misura, inoltre, rimasta più celebre di tutto il New Deal è certamente la creazione del Work Progress Administration, chiamato anche WPA. In pratica, lo Stato assumeva direttamente milioni di disoccupati per costruire opere pubbliche anche di livello molto basso, come pavimentare una strada per esempio. In questo modo si produceva ricchezza, si dava ai lavoratori denaro e dignità, riducendo la disoccupazione. Addirittura l'economista John Maynard Keynes, che sosteneva in quegli anni appunto che lo Stato dovesse intervenire anche in una democrazia liberale per l'economia, per condurre l'economia al di fuori della crisi stessa, arrivò a affermare che lo Stato avrebbe dovuto assumere disoccupati per scavare le buche e altri disoccupati per riempirlo. È ovviamente una metafora che vuol dire che, insomma, lo Stato doveva garantire mettere denaro anche facendo debiti, deficit si direbbe, per dare lavoro alle singole persone. Le riforme non diedero subito risultati, anzi furono alternanti, però Roosevelt ottenne sicuramente grande fiducia dalla popolazione americana. Tanto è vero che venne rieletto per altri tre mandati. Morì durante la Seconda Guerra Mondiale, non vedendone la fine. Quella Seconda Guerra Mondiale che fu un ultimo step, diciamo, del processo che portò l'America a superare la grave crisi del 29. Adesso, in questo clima di difficoltà succeduto al coronavirus, molti industriali, politici, persone diciamo di cultura, vedono un possibile New Deal come soluzione per risolvere la situazione attuale. Cioè uno Stato che si fa garante per le industrie, che finanzia opere pubbliche e che dà denaro a operai, imprenditori, classe media per rimettere in moto l'economia, anche accettando ovviamente deficit di bilancio.